ciao a tutti nel video di oggi vorrei parlare con voi di un argomento che non riguarda la tecnica pittorica ma riguarda più noi come artisti il nostro fare arte i suoi meccanismi e alcune difficoltà si tratta di un argomento che conosco bene perché lo conosco in maniera molto diretta e sono sicura che capiti anche a molte altre persone quindi penso che parlarne possa essere utile stiamo parlando del blocco creativo che è un argomento vastissimo che può avere molte sfaccettature quindi io oggi lo affronterò da una specifica angolazione ma chiaramente si potrebbe ampliare moltissimo partiamo dal cercare di capire cos'è esattamente quella resistenza che a volte vi può capitare di sentire a qualcuno più saltuariamente ad altri proprio quasi ogni volta quando siamo sul punto di disegnare o dipingere o dedicarci a qualsiasi attività creativa penso che questo discorso possa applicarsi un po a qualsiasi attività creativa allora già è abbastanza difficile con la vita frenetica che molti di noi conducono ritagliarsi del tempo e dello spazio per la propria creatività ma spesso i motivi pratici non sono gli unici a cui attribuire il fatto che non ci si dedichi poi alla propria attività creativa tanto quanto si vorrebbe perché anche quando riusciamo appunto a ritagliarci del tempo poi può succedere che ci si blocchi che ci si debba quasi forzare autoconvincere a mettersi alla scrivania a creare ecco vorrei parlare con voi del perché questo succede o meglio alcuni dei possibili motivi che ci sono dietro e anche però darvi qualche spunto su come sbloccare un po la situazione e lo farò dicendovi cosa ha funzionato per me personalmente sperando che possa essere d'aiuto a qualcuno lasciatemi dire che noi non procrastiniamo per pigrizia ma perché abbiamo paura di che cosa cosa potrebbe farci mai un foglio bianco oppure anche un disegno andato male razionalmente niente eppure questo blocco è legato a una paura ben precisa insidiosa che è la paura del fallimento facciamo finta di non sapere che si migliora con la pratica e invece pretendiamo da noi una performance ogni volta che ci mettiamo una matita in mano pretendiamo di fare bene perché sappiamo che possiamo farlo perché quando eravamo piccoli tutti si complimentavano con noi per i nostri disegni perché siamo speciali abbiamo talento sappiamo disegnare perché appunto è una convinzione che abbiamo magari da quando siamo piccoli quindi per forza di cose dobbiamo riuscire ecco dobbiamo confermare questa visione un po onnipotente circa le nostre capacità artistiche anche se poi non ci abbiamo lavorato chissà quanto su ora non sto dicendo che non sia così che non avete talento che non siate speciali facciamo un attimo un parallelo per inquadrare meglio la questione nessuno si aspetterebbe da chi inizia a prendere lezioni di pianoforte che dopo qualche lezione comincia a suonare chopin o dopo qualche anno diventi un virtuoso del pianoforte o anche che riesca a suonare un pezzo semplice ma come lo suonerebbe un professionista purtroppo invece ci sono molti pregiudizi e preconcetti legati all'apprendimento artistico in particolare proprio dell'arte visiva che non fanno che alimentare questi meccanismi deleteri cioè queste pretese di fare bene da subito o con poco sforzo ad esempio la convinzione che il talento per sbocciare non abbia bisogno di essere coltivato con pazienza per prove d'errori con studio con determinazione oppure che o sia talento o non lo sia ok di questo magari parliamo meglio un'altra volta perché il talento pure un argomento enorme però vorrei soltanto dire che banalizzare così la questione quindi o sia talento o no fa soltanto innalzare a dismisura le aspettative nei confronti di noi stessi e ci mette una pressione addosso perché è come se fossimo perennemente sotto esame cioè dobbiamo capire se abbiamo talento o no dobbiamo confermare che abbiamo talento altrimenti non vale la pena proprio disegnare neanche provarci ora sto volutamente esagerando i toni magari non sarà così per tutti a questi livelli però i meccanismi inconsci legati alla creatività possono essere pesanti e avere anche grandi ripercussioni senza che ce ne rendiamo conto quindi quando ci si mette a creare potrebbe succedere che vada male che il disegno poi non ci piace siamo frustrati perché avevamo tante idee ci sembrava di avere gli strumenti per affrontarlo abbiamo sprecato il tempo che poteva essere impiegato per qualcos'altro abbiamo sprecato i materiali che costano insomma è andato tutto male ciò che è peggio però è che questa esperienza ci lascia con un senso di fallimento perché però cioè alla fine è solo un disegno eppure non è solo un disegno purtroppo per fortuna gli artisti tendono a identificarsi molto con ciò che creano e quindi un disegno venuto male rimanda a una sensazione negativa rispetto a ciò che siamo non soltanto ciò che facciamo non soltanto a qualcosa di esteriore di nuovo non sarà così per tutti per alcuni magari era solo una questione un po' narcisistica e di aspettative mancate su di sé ma per altri fare arte è così importante che quando non si riesce ci si sente veramente male a disagio questa sensazione di disagio purtroppo va a sedimentare dentro di noi e aumenta mano a mano che esperienze simili vengono ripetutamente accumulate e questa è secondo me la maggiore responsabile a creare quella resistenza celata dietro al non ho tempo oppure all'idea che sia troppo faticoso tirare fuori tutti i materiali pennelli eccetera quindi è ciò che sta dietro ad altri motivi magari più pragmatici più pratici che certamente possono esserci anche loro non sono per forza delle scuse però ecco secondo me ciò che ci frena davvero dal dipingere sono questi meccanismi la verità è che non vogliamo risentire la frustrazione il fallimento e il senso di inadeguatezza non è solo la pittura che va male siamo noi che non andiamo bene non siamo all'altezza delle aspettative non performiamo a dovere e a comando è possibile che abbiamo paura che non abbiamo niente da dire e che quindi non siamo speciali come ci avevano detto è tutto un ampio spettro di paure che adesso non starò qui ad elencare però ecco proprio perché la creatività può essere così legata all'interiorità può scatenare tra l'altro non dobbiamo soltanto fare i conti con le nostre aspettative personali ma anche con il confronto con gli altri purtroppo stando molto sui social si tende a restare in uno stato di confronto perenne entrare a contatto con il lavoro degli altri con artisti fantastici da tutto il mondo ha sì il potere di ispirarci darci motivazione quindi questo è il lato nutriente stimolante dei social però ha anche purtroppo il potere di farci sentire inadeguati e molto piccoli dobbiamo ricordarci a questo proposito di una cosa importantissima noi vediamo solo il risultato finale noi vediamo il punto di arrivo di questi artisti anche se a volte possiamo vedere il processo pittorico di un singolo quadro come in questo caso non è che vediamo tutto il percorso non vediamo i primi incerti passi i fallimenti i momenti di poca ispirazione o di blocco i disegni stracciati no noi vediamo questi artisti arrivati e secondo noi non devono far altro che lasciar fluire semplicemente questo talento questo dono del cielo e creare dei capolavori così senza sforzo ecco invece chiedetevi come ci sono arrivati lì con quanto impegno e sacrificio però di nuovo sto divagando entrando in argomenti che voglio lasciare magari per una prossima volta arriviamo invece a qualche soluzione a questo problema che appunto crea un circolo vizioso perché tardiamo e rimandiamo il momento del confronto con le nostre capacità il momento creativo per queste paure e quindi meno ci mettiamo alla prova meno miglioriamo meno miglioriamo più siamo frustrati e alimentiamo le nostre resistenze interne con il rischio poi di perdere contatto con la nostra parte creativa come uscirne anzitutto chiediamoci come potremmo allentare la pressione se è quello il motivo principale quindi prima di tutto va capita la causa per quanto mi riguarda dopo alcuni anni che vivevo un po un blocco creativo ho capito che ce l'avevo perché mi mettevo veramente troppa pressione addosso mi aspettavo di creare un capolavoro ogni volta che avevo il pennello in mano cosa che puntualmente non succedeva allora il modo che ho trovato io per uscire da questa dinamica è stato molto banalmente mettermi a studiare cioè considerare i disegni come degli studi non come una spremuta d'anima un concentrato di tutto ciò che volevo esprimere emozioni visioni incredibili no calma umiltà quindi ricordarsi anche che la frustrazione spesso arriva da una mancanza di tecnica e c'è una buona anzi un'ottima notizia per noi la tecnica si può imparare ecco a un certo punto ho messo da parte i miei deliri di onnipotenza e ho cominciato a studiare che vuol dire studiare tornare alle basi fare tanti schizzi di anatomia per esempio conoscere i materiali pittorici tramite sperimentazioni libere copiare tantissimo dalle foto affrontare un argomento alla volta e quindi fare uno studio solo sui toni con le matite per esempio una sui rapporti tra i colori poi vedere la luce in particolare oppure la prospettiva insomma più separate i singoli elementi che contribuiscono alla buona riuscita di un disegno e più vi rendete conto di quanti siano e quindi di quanto sia assurdo pretendere di indovinarli tutti insieme tutti subito senza darsi il tempo di imparare e di processarli con calma uno alla volta e con gentilezza verso se stessi tutto il discorso che ho fatto finora non si applica soltanto ai cosiddetti principianti perché noi possiamo anche disegnare da tutta la vita ma se lo abbiamo fatto senza metodo saltuariamente o solo per alcuni soggetti siamo ancora dei principianti da altri punti di vista comunque abbiamo sempre bisogno di tornare alle basi e di studiare io personalmente studio sempre e sapete una cosa questo mi ha alleggerito enormemente il carico studiare è rilassante non è noioso da tantissima soddisfazione vedere piano piano i progressi e non aspettarsi chissà che sono passati poi anni prima che potessi di nuovo identificarmi con un dipinto quindi prima di sentire che ci avevo inserito anche qualcosa di più della tecnica come qualcosa di emotivo però sono stati anni in cui ho recuperato per prima cosa il piacere di fare arte ecco il piacere non è un elemento secondario e se studiare la prospettiva sembra la cosa più lontana possibile da piacere in realtà ricordatevi che è propedeutico per arrivare a una soddisfazione più grande quando avremo bisogno di usarla in un dipinto più complesso o più connesso al nostro essere artisti quindi non dobbiamo sottovalutare la tecnica infatti io più miglioravo tecnicamente più le soddisfazioni arrivavano e così ho spezzato quel circolo vizioso e ne ho attivato un altro invece virtuoso in cui più imparavo più mi veniva voglia di dipingere di andare avanti e quindi non sentivo più quel blocco possono volerci anni ma ne vai la pena adesso il mio rapporto con la pittura è completamente diverso ciò non vuol dire che io non mi senta mai frustrata infatti il dipinto che state vedendo in questo momento è il secondo che ho fatto per questo video perché il primo mi era venuto malissimo e l'ho buttato via è stato frustrante certo ma adesso la frustrazione rimane come circoscritta so come trattarla la sento e poi svanisce e poi sono di nuovo pronta a dipingere un po di consigli pratici per voi se le mie parole vi hanno risuonato quindi se concentrarsi sugli studi potrebbe essere l'approccio che vi sblocca ecco come potreste fare fate un elenco di soggetti che vi interessano e su cui vorreste migliorare poi fatene uno sulle tecniche artistiche che vi incuriosiscono i materiali che vorreste provare e cercate di nutrire sia la parte che ha bisogno di divertirsi quindi con qualcosa che è nella vostra zona di comfort che ha più a che fare con la sperimentazione sia quella che ha bisogno di crescere tecnicamente e per l'amor del cielo datevi tempo ricordatevi che ogni piccolo bozzetto ogni disegno ogni schizzo ogni dipinto che magari non ha tantissimo significato vi avvicinerà sempre di più alla vostra visione ci arriverete però non scordatevi di godere del processo nel frattempo raccogliendo ogni piccola soddisfazione invece di non essere mai contenti e non vi fissate sul trovare il vostro stile anche quello mette un sacco di pressione addosso è un argomento che magari posso affrontare in un altro video perché anche questo è enorme però esplorate tutto ciò che volete non mettetevi dei limiti perché pensate che si debba fare così no la ricerca della propria voce e del proprio stile deve essere un processo spontaneo o non funzionerà quindi meno paure aspettative più gioco con i materiali più umiltà nel processo di apprendimento tecnico più gentilezza nei vostri confronti e godere delle piccole vittorie la prossima volta che sentite la voglia di creare ma quella vocina vi dice che sarebbe meglio fare qualcos'altro a seconda delle energie che sentite di avere in quel momento fate qualcosa di adeguato cioè può essere uno studio più o meno impegnativo oppure un soggetto nuovo o al contrario che vi è familiare con materiali economici così se sbagliate non vi sentite in colpa insomma girate attorno alle vostre paure sentitele non dovete reprimerle però non permettetegli di essere in controllo o insidiarvi il pensiero che non siete e non sarete mai abbastanza bravi e che ogni fallimento artistico ne alla conferma non è così nei miei anni di insegnamento ho visto fare dei progressi enormi a chi all'inizio aveva molta difficoltà e invece fermarsi e non progredire a chi non faceva altro che pretendere troppo da se stesso se avete altri dubbi o meccanismi dai quali non riuscite a sbloccarvi e di cui non ho parlato sentitevi liberi di parlarne nei commenti così io qualcun altro possiamo darvi dei consigli e darvi una prospettiva diversa e poi potrebbero anche essere discussi in un altro video una parte due sempre su questo argomento se vi fa piacere queste per il momento sono le riflessioni che avevo voglia di condividere con voi spero che vi abbia fatto piacere sentirle e anche che questo nuovo format che vorrei portare avanti vi piaccia cioè discussione intorno a un argomento legato alla creatività dal punto di vista umano diciamo non non tecnico quindi fatemi sapere che ne pensate vi ringrazio per aver guardato o ascoltato fino alla fine e ci vediamo presto nel prossimo video